Musica Ben trovati in questa edizione di Licata News, una stazione mobile per il rilevamento della qualità dell'aria. Questa la richiesta di cittadinanza attiva avanzata all'ARP Sicilia. Ascoltiamo l'intervista a Toni Licata. Toni Licata c'è una richiesta specifica da parte di cittadinanza attiva all'ARP, troppe polveri sottili nell'aria e allora la richiesta di una stazione mobile per tentare di rilevare e capire cosa c'è effettivamente nell'aria Licata. Si, messo momentaneamente, non a dormire ma sta seguendo il suo percorso, il ragionamento sul depuratore dei reflui è arrivata l'ora di occuparci dell'aria che respiriamo. Abbiamo avuto modo di constatare che il quantitativo di particolato e quindi polveri sottili inferiore a 10 micron, inferiore a 2,5 micron è una quantità inusitata. Però non si può andare avanti con le impressioni. A dicembre avevamo fatto richiesta all'ARP di Agrigento di avere una stazione mobile per questi rilevamenti e ci era stato detto che la responsabilità di queste analisi, di queste indagini, spetta all'ARP di Balermo. E quindi ieri ci siamo decisi, prima in forma digitale con una mail e poi in forma cartacea, a fare una richiesta ufficiale alla responsabile dei monitoraggi ambientali siciliani di fare delle analisi specifiche. Rammento che la Sicilia è suddivisa in 55 siti diversi per cui fanno analisi localizzate in siti per esempio come Gela, Priolo, Milazzo che hanno delle realtà industriali non indifferenti e quindi una presenza non indifferente di inquinanti. Noi non facciamo parte di questi siti ecco perché la richiesta straordinaria, extra, di una stazione mobile che accerti se i nostri sospetti vengono suffragati da analisi e se così è chiaramente metteremo mano a fare qualche cosa per ridare un ambiente salubre anche dal punto di vista aria ai cittadini di Licata. Richiesta che è stata correlata anche con una documentazione fotografica. Sì, ci siamo resi conto che il comunicato e la richiesta assume un'incisività maggiore quando è suffragata da reperti fotografici. Ho avuto modo di allegare 3-4 foto in cui si vede un portoncino che guarda caso è quello di casa mia dove a distanza di una settimana pulito a specchio c'è una raccolta di polveri sottili sulla maniglia e sui bordi dell'alluminio anodizzato che lo costituisce in maniera non indifferente. Quindi chi legge il comunicato si può rendere conto di quello che stiamo dicendo perché le fotografie sono una valida testimonianza. E si attendono sviluppi dall'inchiesta che ha portato al sequestro preventivo dell'impianto di depurazione di contrada a Ripellino. Oltre agli indagati noti Marco Campione e Giuseppe Giuffrida rispettivamente rappresentante legale e amministratore delegato della Girgenti Acque per violazione delle norme ambientali, di danneggiamento e frode nelle pubbliche forniture ci sarebbero altri indagati per lo più titolari di cariche pubbliche i cui specifici profili di responsabilità anche in termini di omesso controllo e intervento sarebbero attualmente oggetto di approfondimento investigativo. Il Presidente del Consiglio Comunale Carmelinda Callea ha convocato la seduta aperta del Consiglio Comunale per il prossimo martedì 8 marzo alle ore 18 per affrontare i problemi connessi ai furti di rame avvenuti nel nostro territorio nelle ultime settimane. Il Consiglio si terrà presso l'aula capitolare dell'ex convento del Carmine vuole essere un chiaro segnale non solo di vicinanza ai cittadini che vivono una condizione di grave disagio a causa dell'interruzione dell'energia elettrica ma anche una dimostrazione della necessità di tenere alta l'attenzione affinché non si prolunghino ulteriormente i tempi di attesa per la risoluzione del problema. Per questi motivi oltre che invitare il prefetto di Agrigento e le forze dell'ordine locali è stato invitato anche l'ingegnere Santino Pellitteri responsabile Enel. Diverse sono le sollecitazioni che sono giunte al Presidente del Consiglio Comunale dalle famiglie, dalle categorie colpite, commercianti e agricoltori ai quali Carmelinda Callea esprime tutta la sua solidarietà ma al contempo ringrazia il prefetto di Agrigento per l'impegno profuso nel sollecitare gli interventi necessari al ripristino dell'energia elettrica. La seduta del Consiglio Comunale, scrive il Presidente del Consiglio Comunale Carmelinda Callea vuole rimarcare la vicinanza ai cittadini e sollecitare gli interventi e i controlli sul territorio al fine di garantire e potenziare dove è possibile la sicurezza in città. Il Presidente del Consiglio Comunale Carmelinda Callea invita tutti i cittadini licatesi a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale. La cronaca ai carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato tre persone con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un anziano 65 anni di Licata. I particolari in questo servizio. Una tentata estorsione in piena regola, quella compiuta da tre cittadini, un gelese e due di nazionalità rumena ai danni di un anziano di 65 anni di Licata al quale è stata chiesta la somma di 200 euro per riavere indietro la sua autovettura. I tre infatti avrebbero intimato all'anziano Licatese di consegnare la somma di 200 euro per riavere indietro l'autovettura che era stata prestata ad uno dei tre soggetti. L'estorsione è stata però sventata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata e gli ordini del capitano Marco Currao che hanno arrestato in flagranza di reato Claudio Ianni, disoccupato di Gela, già noto alle forze dell'ordine, e due cittadini di nazionalità rumena, Andrei Stirbu, residente a Gela, disoccupato, e Renata, residente a Palma di Monte Chiaro, abbracciante agricola, già nota alle forze dell'ordine. Tutti e tre sono accusati di tentata estorsione aggravata in concorso. I militari dell'arma, a seguito di una mirata e rapida attività info-investigativa, hanno rintracciato e bloccato i tre soggetti nell'atto di ricevere da un 65enne di Licata e la somma di 200 euro, somma che gli era stata richiesta da uno dei tre soggetti al fine di permettere la restituzione della propria auto, la quale era stata temporanemente concessa in prestito qualche giorno fa alla abbracciante agricola rumena. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno fermato e ammanettato i tre soggetti per poi ritrovare l'auto in un'officina meccanica. I tre arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla competente autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. I carabinieri della stazione di Licata, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in fragranza di reato Angelo Giuseppe Bonvissuto, classe 1960, pasticcere licatese, già noto alle forze dell'ordine, poiché resosi responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. In particolare i militari, operanti con l'ausilio dei tecnici verificatori della società Enel Distribuzione, ufficio verifiche di Agrigento, hanno effettuato un'ispezione presso il laboratorio di una nota pasticceria del 56enne commerciante Licatese, ubicata nel centro della città, al fine di verificare la corretta erogazione e il pagamento dell'energia elettrica. Nel corso degli accertamenti è stato accertato che il 56enne pasticcere aveva posizionato un magnete proprio sopra il contatore dell'energia elettrica, sottraendo fraudalentemente energia elettrica al fine di alimentare la propria pasticceria, eludendo così i costi dell'erogazione. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nuova richiesta di arresti da parte della Procura di Agrigento per tre degli indagati nell'inchiesta Duty Free, il servizio e della redazione di TV Agrigento. La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto nuovamente gli arresti per Marco Campione, presidente di Girgenti Acqua e del dipendente Michele Dain e del direttore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento Pasquale Leto, tutti accusati di corruzione nell'ambito dell'operazione denominata Duty Free. Un'inchiesta che ipotizza un giro di mazzette favori tra i due enti, il pubblico ministero Andrea Maggioni si è rivolto alla Cassazione con un atto di accusa articolato in 25 pagine, sottoscritto oltre che dal PM, dal procuratore Renato Di Natale e dall'Aggiunto Ignazio Fonzo. Chiedendo di arrestare nuovamente il legale rappresentante di Girgenti Acqua e l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate e il ragioniere Michele Daina, che avrebbe preso parte all'accordo corruttivo. Il Tribunale del Riesame di Palermo il 28 dicembre scorso, quasi tre settimane dopo l'operazione Duty Free, eseguita dalla Guardia di Finanza, aveva annullato alcuni degli undici arresti. Campione Leto, secondo l'accusa, avrebbero barattato l'assunzione alle dipendenze della Girgenti Acqua e la società che gestisce il servizio idrico integrato in molti comuni della provincia di Agrigento, della trentenne Francesca Leto, praticante e avvocato, figlia del direttore dell'Agenzia, inizialmente accolta come collaboratrice con la promessa di una stabilizzazione, con allunamento di una sanzione di 44 mila euro combinata alla società dell'imprenditore. Lo stesso Leto avrebbe comunicato a Campione, secondo quanto sostenuto dal PM e il GIP firmatari dell'ordinanza, notizie riservate sull'attività ispettiva dell'ufficio ed è proprio sull'aspetto del passaggio di informazioni che i PM contestano l'ordinanza del Riesame, che annullava i tre provvedimenti restrittivi. In altri termini, scrivono i PM nel ricorso che sarà discusso in Cassazione, dagli atti emerge chiaramente un asservimento della funzione pubblica di Leto a favore dell'interesse privato di Campione, il rapporto di Dout Des con l'altra utilità promessa da Campione, ovvero l'assunzione della figlia. Se i giudici dovessero accogliere il ricorso della Procura, gli indagati finirebbero nuovamente agli arresti domiciliari. La prima udienza è quella a carico di Lete in programma il 15 marzo prossimo. I procedimenti a carico di Campione e Daina non sono stati invece ancora fissati. I giudici della Corte di Appello modificano in parte il verdetto di primo grado che scagionava i nuovi imputati del processo sulle false dichiarazioni dei requisiti in possesso per entrare nel Consiglio di Amministrazione dell'Asi di Agrigento. Per i due amministratori che rispondevano soltanto di abuso di ufficio, vale a dire l'ex sindaco Diopolo Giancaxio, Salvatore Lodico, 58 anni, e l'ex assessore comunale di Racalmuto, Calogero Morgante, 71 anni, è stata confermata l'assoluzione emessa l'8 ottobre del 2012 dal GUP Stefano Zammuto. Adesso diamo lettura di una nota di Gianluca Mantia. Oggi si costituisce il Comitato per il Sì al referendum del 17 aprile, il cui fine sarà la diffusione di informazioni alla cittadinanza in merito al quesito referendario del 17 aprile 2016. Votare sì vorrà dire abrogare quella norma che cancella il divieto di trivellazione entro le 12 miglia ed estende i permessi di sfruttamento del giacimento sino ad esaurimento di questo. Il Comitato, scrive Gianluca Mantia, è aperto a tutte quelle cittadini e a quei cittadini che condividono la necessità di salvaguardare il nostro territorio e il nostro sviluppo economico e a tutte le forme aggregative presenti in città che proseguono il fine del Comitato. Chiediamo, scrive Mantia, inoltre alle istituzioni cittadine, amministrazioni e opposizione di rendere pubblica la propria posizione in merito al referendum. Il Comitato per il Sì invita la cittadinanza alicatese sabato 5 in Piazza Progresso per tutta la giornata alla prima delle iniziative che nei prossimi giorni organizzerà per diffondere le ragioni del Sì. Il Presidente della Commissione e Bilancio Calogero Scrimali torna sulla questione del verde pubblico e delle palme rinsecchite e ammalate che rischiano di scomparire. I particolari in questo servizio. Il Presidente della Commissione e Bilancio del Comune di Licata Calogero Scrimali torna sull'argomento verde pubblico in città focalizzando l'attenzione in particolare sulle palme della via Principe di Napoli e di via Palma, ormai rinsecchite e ammalate con il rischio ormai evidente di scomparire tutte. Nell'intervento del 10 dicembre scorso Scrimali in una nota aveva sollevato il problema delle palme del verde pubblico, ormai rinsecchite che non venivano abbattute malgrado un contratto affidato a terzi per quasi 6.000 euro. Ebbene, a distanza di quasi tre mesi, sottolinea oggi con un'altra nota il consigliere Scrimali, tutte le palme di via Principe di Napoli e molte altre in via Palma si sono ammalate ed hanno preso il posto delle prime e poco per volta stanno scomparendo tutte, se non si pone rimedio. La potatura dell'essenza e arbore era in ritardo allora, figuriamoci adesso, continua Scrimali e le fronde strisciano già per terra occupando il marciapiede. Scrimali torna poi sulla questione, anche in vista tra qualche settimana, della ricorrenza della dolorata molto sentita in città e via Principe di Napoli attende di ritornare al suo legittimo decoro. Poi Scrimali sposta l'attenzione sulla piazza Attilio Regolo, dove viene segnalato come gli oleandri fanno bella mostra di un rigoglio primaverile molto invidiabile, costituendo intralcio ed impedimento alla circolazione dei passanti e alla loro sicurezza. Situazione che non va e Scrimali spiega il perché. Intanto perché il lavoro poteva essere interamente effettuato con risorse interne, aumentando il loro utilizzo che ad oggi è part-time. invece si è preferito esternalizzarlo e poi, perché malgrado ciò, si è estremamente in ritardo rispetto ai tempi che la natura ci impone. Il presidente della Commissione Bilancio e Finanze, Scrimali, punta il dito e accusa l'amministrazione comunale dedicata di non essere capace di curare e tutelare adeguatamente il gran bel patrimonio arborio della città, riferendosi alla strage di Palme, ad opera del punteruolo rosso. Ma nel contempo il problema è tale da mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Occorre intervenire, conclude Scrimali, e occorre farlo subito e sicuramente prima della ricorrenza della dolorata. In addirittura d'arrivo la legge finanziaria all'Assemblea regionale siciliana. Dopo tensioni, polemiche e bagarre in aula, l'Arsa ha approvato l'articolo 23 della legge finanziaria, la cosiddetta ex tabella H che ormai praticamente soppressa. Sono stati salvati soltanto gli enti dei ciechi e sordomuti. Situazione igienico-sanitaria pessima a Porto Empedocle, dove la raccolta dei rifiuti è ferma. Il servizio è di Adriana Licausi, della redazione di TV Agrigento. Cassonetti come aghi in un pagliaio di immondizia. Porto Empedocle sommersa dai rifiuti. L'ASP di Agrigento ha inviato una lettera alla Prefettura per segnalare l'emergenza igienico-sanitaria. Dal canto suo, il viceprefetto Elisa Vaccaro ha incontrato i rappresentanti delle aziende Iseida, Icos ed Ecoin, che si occupavano del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a Porto Empedocle. Giancarlo Alongi di Iseida, carte alla mano, ha dimostrato quanti soldi avanzano dal comune perché non sono più nelle condizioni di poter far fronte al servizio, che continua Alongi. Abbiamo eseguito in un regime di proroga dopo che all'ultima gara d'appalto non si era presentata nessuna azienda. I lavoratori, 28 Netturbini, sono in cassa integrazione a ore zero. A turno, tre di loro ed un solo mezzo, si occupano dei servizi essenziali. Ed è in questa situazione, è proprio il caso di dirlo di immondizia, i cittadini in queste ore stanno ricevendo le bollette della spazzatura. Intanto il commissario straordinario del comune, Margherita Rizza, da Palermo comunica ai suoi più stretti collaboratori empedoclini di avere interessato la protezione civile regionale al fine di ottenere un servizio di raccolta molto straordinario. In questa situazione, a farne le spese sono sempre i cittadini. La spazzatura sta arrivando proprio al ridosso all'oratorio dove quotidianamente accogliamo i ragazzi per farli crescere accanto alla chiesa e formarli e dare possibilità nel campetto che abbiamo di giocare e divertirsi. Già questo appello noi come sacerdote l'avevamo fatto al prefetto e anche al commissario straordinario della città di Porto Empedocle, molti giornali già ne hanno parlato, so che a TG3 oggi questo problema è stato pure evidenziato. Noi ormai siamo costretti a chiudere l'oratorio perché non c'è possibile proprio fare attività normale con questa mancanza di giri così grave nel riguardo della città e dei ragazzi che frequentano l'oratorio. Adesso ci fermiamo, la linea va alla regia per la pubblicità a tra poco con le altre notizie e gli altri servizi. L'isola di Pasqua è il mistero dei Moai. Domenica 20, venerdì 25, giovedì 24 e sabato 26 dalle ore 17 alle 20 presso il centro commerciale Il Porto, aperti tutte le domeniche. C'è Amiche Ligata, lo stile italiano che arreda. Joe, fa sempre la differenza. Domani è alicata a cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con probabili deboli piogge, rapido miglioramento dal pomeriggio, con cieli parzialmente nuvolosi in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, la minima di 11 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-nord-ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest. Mare molto mosso, umidità oscillante tra i 53 e l'84%. Questo programma vi è stato presentato da... Dai fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta di piccolo, c'è soltanto il prezzo. Scusate se è poco. Dal 2 gennaio al 15 marzo, al centro commerciale Il Porto, arriva una pioggia di saldi. Centro commerciale Il Porto, lo shopping che conviene. Seconda parte del telegiornale, rischio collasso per le nove province siciliane, sempre più accorto di liquidità, il servizio della redazione di TV Agrigento. Prima è ben servito alle istituzioni politiche, adesso è l'intera struttura amministrativa che rischia di affondare. Le nove province dell'isola traballano, barcollano in assenza di fonti necessarie, di certezze finanziarie che non arrivano neanche dalla legge di stabilità in corso di approvazione a Sala d'Ercole. Così i primi a ribellarsi sono i vertici. Due commissari hanno deciso di gettare la spugna. Uno è quello che guida l'ente di Agrigento, Marcello Maisano. L'altra è una vecchia conoscenza della città dei Templi, Alessandra Di Liberto, che fu alla guida di Palazzo dei Giganti durante il vuoto lasciato da Marco Zambuto. Di Liberto era al timore dell'ex provincia di Cattanissetta. Hanno alzato bandiera bianca entrambi, nell'impossibilità di poter gestire servizi, garantire gli stipendi al personale e poter chiudere il bilancio 2016. Il default è dietro l'angolo, il dissesto bussa alla porta. E il gesto di Maisano e Di Liberto, inviati dalla Regione, è un segnale di impotenza di fronte anche alla volontà di Palazzo d'Orlean e Sala d'Ercole di stanziare complessivamente poco più di 19 milioni di euro per gli attuali liberi consorsi fra i comuni. Una goccia d'acqua nel deserto, denunciato dai nuovi commissari prima della sessione dedicata alla finanziaria. Con una lettera al Presidente della Regione e all'assessore all'economia Baccei. Ma evidentemente la missiva non ha assortito gli effetti sperati. Manca nei soldi. Era stata la risposta di Baccei. Il problema delle province è molto serio, aveva detto, ed è un problema da 150-180 milioni di euro. Aggiungere 3 o 4 milioni non cambia nulla. Semmai bisognerà chiedere a Roma di fare la sua parte. Ma potremmo farlo con una legge sulle province che sia finalmente approvata. Queste ancora le parole di Baccei. E' come se non bastasse, lo Stato con una mano trattiene i trasferimenti alle province e con l'altra mano aumenta il prelievo forzoso dalle province. 12 milioni di euro a Quartanissette e 7 milioni di euro da Grigento. La riforma, che era stata annunciata in forma solenne da Crocette in antiprima nazionale, ancora non arriva. Forse arriverà prima la morte per le ex province. Il Comune di Licata ha pubblicato il bando e l'avviso pubblico per la concessione di un contributo ai cittadini che, causa perdita di lavoro, si trovano a non poter pagare il canone di locazione e rischiano lo sfratto. Il contributo verrà erogato a seguito di accredito delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana. Può essere concesso nella misura massima di 12 mensilità non pagate dalla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di 8 mila euro. I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Licata, essere in possesso della dichiarazione DUS da cui risulti un reddito ISEE non superiore a 35 mila euro o un reddito ISEE non superiore a 26 mila euro ed essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Licata in Piazza Progresso entro le ore 12 del 21 marzo. Dai topicidi ai nuovi anticoagulanti orali, vantaggi e criticità. Questo è il tema di un workshop in programma sabato 5 marzo all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'evento, organizzato dal dottor Onofrio Cacciatore, responsabile dell'unità operativa luogodeggenza del presidio ospedaliero, è accreditato. Incetta di premi per la scuola di kickboxing Tana della Tigre al Centurion di Arsi Marziali disputato domenica scorsa a Ribera. Il servizio è di Giuseppe Cellura. Show della scuola Licatese di kickboxing Tana della Tigre al Centurion disputato domenica scorsa al palazzetto Enrico Berlinguer di Ribera. I ragazzi del maestro Biagio Nogara hanno portato a casa 8 primi posti e 3 secondi su 9 combattenti in gara. Varie le discipline in cui gli atleti si sono cimentati. Mattatore, in casa della Tana della Tigre, Ivan Riccobene, capace di centrare 3 primi piazzamenti nel light contact 45-50 kg e nel kick light 50 kg. Gradino più alto del podio anche per Daniel Riccobene nel light contact per atleti di 60 kg. Exploit anche per Paolo Fama nel light contact in un match riservato ad atleti del peso di 75 kg. Successo anche per Salvatore Marzullo nel light contact per atleti di 65 kg. Scendendo con l'età, soddisfazione e successo finale per Giuseppe Falsone nel kick light per atleti di 45 kg. Grande affermazione anche per Miami Balan nel light contact. Passiamo ai secondi posti. Nel kick light, piazza d'onore per Vincenzo Cusumano nel kick light 75 kg. Per Angelo Iapichino, sempre nel kick light per atleti di 65 kg. E per Gaetano Cellura nella categoria 60. Notevole la soddisfazione al termine dei match per il maestro Biagio Nogara. Sapevo che i ragazzi si erano preparati molto bene al suo commento, però sono sincero nel dire che non mi aspettavo tutti questi primi posti. Siamo andati oltre le più rose aspettative e di questo voglio elogiare questi ragazzi che ogni giorno si allenano con impegno e dedizione. La nostra testa, conclude il maestro, è però già proiettata sulle prossime sfide. Il nuovo appuntamento sul ring per la Tana della Tigre è fissato per il 6 marzo quando gli atleti licatesi saranno di scena al Palazzo San Filippo di Messina per una nuova tappa a livello regionale. E con questo servizio di sport è tutto, il telegiornale termina qui. Grazie per la cortese attenzione e l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti.